Due persone sono morte ed una è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada 14 nel tratto tra Grotta Mare e San Benedetto del Tronto coinvolti tre mezzi pesanti Prima di pensare alla zona rossa c'è il tracciamento, l'ha detto il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli parlando con i giornalisti dei primi casi di variante Delta rilevati in questi giorni Lupi di nuovo all'attacco in un'azienda agricola di Monte Cucco, 25 animali sbranati e il terzo in due anni Via le mascherine all'aperto ma non è un libera a tutti Ci fa piacere che ci liberano da questa sessione Si respira un po' meglio Sì, però bisogna avere sempre le precauzioni Ai passeggi di Fanno arrivano le panchine intelligenti, proseguono i lavori di sistemazione dei due viali verdi che attraversano la città Inaugurata nel convento del Beato Sante di Monbaroccio la nuova sede del Comitato delle Proloco della provincia di Pesero e Urbino Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri Un cordiale saluto dalla redazione di Fanno TV Benvenuti a tutti voi, cari telespettatori, a questa nuova edizione del telegiornale Che comincia con il drammatico incidente stradale che si è verificato in A14 sull'autostrada Dove sono rimaste uccise due persone ed una è rimasta ferita Il tratto interessato da questo schianto è quello tra Grotta Mare e San Benedetto del Tronto Nello scontro sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti, uno dei quali è andato a fuoco Il sinistro è avvenuto all'altezza del chilometro 303, in coda ad un cantiere segnalato Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico, riaperto poco fa Per permettere le operazioni di soccorso e di spegnimento Inevitabili gli incolonnamenti, la protezione civile ha anche distribuito acqua agli automobilisti rimasti bloccati E adesso invece parliamo dell'attacco dei lupi Che è avvenuto questa mattina all'alba in un'azienda agricola di Monte Cucco Nel comune di Terre Roveresche Il servizio è di Simona Zonghetti Continuiamo così, è la terza volta, siamo un po' stanchi, ma stanchi, stanchi, stanchi Sono esasperati i titolari della società agricola Roberti Hanno subito l'ennesimo attacco dei lupi in questo campo di 7 ettari Situato a Monte Cucco, nel comune di Terre Roveresche Due anni fa vennero sbranati 30 capi di bestiame Lo scorso settembre ben 25 E questa mattina altri 25 tra pecore, capre e agnellini Quando vi siete accorti di questa mattanza? Mi sono accorto questa mattina io alle 5 Venendo in azienda per i lavori di routine Ho notato che qui al Pasquo c'era qualche capo fermo che non si muoveva E pensate quindi ad un attacco dei lupi? Sì, lupi, lupi, non c'è nessun dubbio Da dove possono essere entrati? Avete notato qualche buco, qualche pezzo di recinto mancante? Allora, i buchi non ci sono, noi abbiamo fatto un recinto due anni fa, prima del Covid Con la rete 40 cm sottoterra, con la rete elettrosaldata e può essere anche passato sopra, non si sa Avete provato a quantificare il danno? Allora, i danni, le pecore con gli agnelli, una pecora grassa da un quintale vale intorno ai 130-140 euro E in più l'agnello venduto al negozio ne vale altre 120-130 e le capre valgono 80-100 euro l'una Oltre al danno economico, prosegue Francesco, c'è anche quello affettivo Infatti questi animali sono motivo di attrazione sia per i clienti del ristorante che per i bambini che si fermano ad ammirare gli animali I poni per fortuna si sono salvati, ma tanta è stata la paura anche per loro, tant'è che sono stati ritrovati nella boscaglia Oggi si vedono i lupi come i gatti, in giro, giorno, la sera, volevo dire che è il nostro superiore che vorrò di risolvere la situazione Perché qui non si può andare più avanti, si vedono i lupi di giorno come i cani in giro Anche pericoloso? Molto pericoloso, infatti quelli che camminano a piedi fanno il giro da Monteporzio, Castello, Ecchio Molti non passeggiano più perché è arrivata la voce che ci sono questi lupi in giro E quindi è un paura, non fanno più le passeggiate Lei fa il pastore da 42 anni, ha già visto altre scene di questo tipo, ormai siete abituati? A me ne hanno ammazzate prima 40 e venerdì notte ne hanno ammazzate 7 4 agnelli, 2 montoni e una pecora Purtroppo io sono vecchio, devo smettere perché non si può andare avanti con questo sistema Questo non è un sistema, se cambiano sistema è che gli elevatori sono protetti, sono pagati per i danni Invece qua si lavano le mani tutti, non fanno niente È difficile poi ottenere anche il risarcimento? No, non ci danno niente, dobbiamo pagare 70 euro per pecora per lo smaltimento E oltre al danno la beffa? Oltre al danno la beffa Se i cani maremani non li possiamo tenere perché noi ancora facciamo il pascolo vagante E passa la gente per la strada, danno fastidio di qua e di là E allora conviene chiudere l'ufficio e via A Montecchio di Vallefoglia uno scontro frontale tra due auto intorno alle 14 lungo corso 21 gennaio Per causa ancora in fase di accertamento una BMW con a bordo una donna e tre bambini Stava procedendo in direzione Pesero quando una Opel Astra che viaggiava verso Padiglione Ha invaso la corsia opposta L'impatto è stato inevitabile, gli occupanti di entrambi i mezzi sono stati portati al pronto soccorso per accertamenti Ma nessuno sarebbe in pericolo di vita Ed ora ci spostiamo al porto turistico di Fano dove è stata sequestrata una barca a vela Per contrabbando e devasione dell'IVA per oltre 37 mila euro È stata conclusa dalla Guardia di Finanza con l'Agenzia delle Dogane L'ispezione all'interno del porto marina di Cesare a Fano Che ha portato al sequestro di una barca a vela di 14 metri Battente bandiera Commonwealth of Dominica del valore stimato di 200 mila euro Il bene di lusso di proprietà di un brasiliano si trova dal 2019 In un cantiere navale per l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione Ma ancora non era stata regolarizzata l'importazione sul territorio italiano Infatti per i cittadini residenti fuori dall'Unione Europea È possibile mantenere mezzi navali negli spazi comunitari per un massimo di 18 mesi Dopodiché l'unità deve essere assoggettata ad altro regime doganale Con eventuale pagamento dei diritti di confine Gli atti del sequestro sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Pesaro E alla nuova Procura Europea Che può intervenire nell'ambito dei reati Che possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione Europea Inoltre sono stati inviati verbali d'accertamento per il recupero dell'ivevasa Per oltre 37 mila euro Calcolata sul valore dell'imbarcazione Nonché una multa da 2 a 10 volte il valore dell'imposta I controlli terminati l'11 giugno Rientrano nella più ampia operazione denominata Bandiere Fantasma Volta a verificare il rispetto della normativa doganale L'attività di intelligence è finalizzata al contrasto Dell'importazione illecita di beni provenienti da paesi ex-raoe Sotto controlli in particolare unità da diporto di pregevole valore Come gli yacht battenti, bandiera estra E presenti nelle marinerie turistiche delle Marche Un vasto incendio è divampato oggi pomeriggio intorno alle 16 In un campo di grano a Corinaldo Il rogo si è sviluppato su almeno 8 ettari di terreno Sul posto i vigili del fuoco di Senigallia Iesi, Arcevi Ancona E in supporto anche la squadra del distaccamento di Fano Dopo aver domato le fiamme sono seguite le operazioni di bonifica Uno sconto tra un'auto e una bici Si è verificato invece sempre oggi alle ore 15 Nell'incrocio tra via 4 Novembre e via 27 Agosto a Fano Secondo le indagini la vettura, una Panda con a bordo un 73enne fanese Stava percorrendo via 4 Novembre in direzione Monte E nello svoltare a destra in via 27 Agosto Ha urtato il ciclista, un sessantenne di Fano Che è rimasto ferito nell'impatto Ed è stato soccorso dal 118 Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge E adesso parliamo di sanità Nelle Marche, nell'ultima giornata Non sono stati registrati decessi legati al coronavirus I nuovi positivi invece sono soltanto tre Di cui due nella provincia di Pesaro e Urbino Negli ospedali della regione c'è un ricovero in più rispetto a ieri Ma in terapia non intensiva Negli altri reparti il dato rimane invece invariato E da oggi non c'è più l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto Un altro passo avanti verso la normalità Ma che richiede ancora prudenza Soprattutto in certe condizioni Tutta l'Italia in zona bianca Niente coprifuoco E mascherine in tasca all'aperto È un giorno simbolico del cambio di fase Dopo mesi di restrizioni nella lotta contro il covid Se da una parte spaventa la variante delta Dall'altra il crollo di ricoveri e contagi Nelle ultime settimane Ha portato il ministro della salute A firmare un'ordinanza con le nuove disposizioni Da oggi dunque stoppa i dispositivi di protezione all'aperto Anche se la mascherina dovrà essere sempre a portata di mano Infatti dovrà essere indossata in caso di assembramenti E nei locali al chiuso Come bar, ristoranti, negozi e centri commerciali Non credo che ci libereremo di questo virus per molti anni Non credo che ritorneremo alla normalità A una nuova normalità la chiamano Perché se deve rimanere comunque La mascherina in tasca pronta all'uso E il distanziamento sociale È tutto un cavolo, no? Come si suol dire Spero di sbagliarmi Che piano piano avrà giudizio da solo Questo virus piano piano diventa più bollacione Ma ci credo poco Lei è un po' più ottimista dell'amico? Io non è che è una questione di essere ottimista o pessimista Non ho le competenze Quindi partiamo da questo presupposto Non le ho io E non so se le hanno gli esperti Questo è il vero problema Siccome siamo in una fase on the road Quindi è difficile capire L'esperienza dell'anno scorso ci dice Che col caldo il corona tende ad attenuarsi Speriamo bene, ecco Speriamo bene Non ne posso più delle mascherine Veramente siamo al massimo della sopportabilità Quindi la libertà dell'individuo Sta recuperando su una realtà non libera Posso chiedere a lei che cosa ne pensa? Io credo intanto che la pandemia sia un dato di fatto E quindi bisogna cercare assolutamente Di scongiurare il pericolo di infezioni Questo lo facciamo con senso civico Quindi le vaccinazioni in primis L'utilizzo della mascherina specialmente al chiuso È importante perché dobbiamo tutelare noi stessi e gli altri Altrimenti non ne verremo fuori Quindi se ci sarà da sacrificarsi ancora un po' Lo faremo Però dobbiamo farlo per tutti E come in passato l'obbligo di indossarla Come specificato nelle fac del governo Non vale per alcune categorie I bambini sotto i sei anni Le persone che per la loro invalidità o patologia Non possono tenerla Chi deve interloquire nella lingua dei segni Con una persona non udente Mentre si effettua l'attività sportiva Oppure mentre si mangia o si beve Nei luoghi e negli orari in cui è consentito Infine quando si sta da soli O esclusivamente con i propri conviventi Ancora per quello che riguarda il personale Dentro i ristoranti Dentro i locali Bar Piuttosto che anche i negozi Dovrà stare con la mascherina Un ultimo sforzo Per cercare di tornare alla normalità totale Nella speranza che finita l'estate Non si torni a dei nuovi contagi Si possa tornare a una situazione di normalità Che per noi è molto importante Era ora di tirar via sta mascherina Anche dentro L'avete comunque con voi? Io no 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 Sono contro Vedo che ha la mascherina indossata Anche se in realtà oggi all'aperto Potremmo farne a meno Che cosa ne pensa? No io non sto a sentire gli altri per la verità Faccio come mi sento ecco E si sente più protetta? Sì mi sento più protetta sì Ancora per un po' Fino a che la pandemia insomma sarà in alto Sentiamo cose brutte Della delta Qualcosa del genere insomma Vi vediamo senza mascherina finalmente Che bello Guardi dove ce l'abbiamo Mi riprenda bene per favore Perché non lo so Le siete contenti comunque di questa soluzione? Sì sì E un impice in meno insomma Sicuramente Come un altro Siamo già vaccinati Tutto per cui Siamo diversamente giovani Per cui ecco Ci fa piacere che ci liberano da questo Da questa ossessione Si respira un po' meglio Sì sì Però bisogna avere sempre le precauzioni Adesso andiamo al bar E se vediamo che ce l'ha ressa Ce la rimettiamo Lui ce l'ha qua dentro Io ce l'ho qui E andiamo avanti A portata di mano Sì esatto Prima di pensare alla zona rossa C'è il tracciamento Lo ha detto il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli Parlando con i giornalisti Dei primi casi di variante delta Rilevati in questi giorni Nelle Marche E a proposito Della decadenza Dell'obbligo Della mascherina all'aperto Ha detto Non deve sembrare Un tana libera a tutti Io la indosso anche ora Bisogna stare attenti Tutto quello che faremo Come sistema Italia Ha proseguito il Governatore Lo faremo come sistema Marche Credo che dobbiamo restare sereni E seguire le direttive Che ci siamo imposti Ancora un incidente Si è verificato oggi a Fano Intorno alle 16 Un'auto è uscita di strada Lungo la provinciale Nei pressi del ristorante Biricocco Il mezzo procedeva in direzione Fano Ed è uscito di strada Forse per un colpo di sonno Per fortuna Nessuno è rimasto Ferito Nuovo camminamento Pulizia delle caditoie E installazione di panchine intelligenti Proseguono i lavori di riqualificazione Dei passeggi a Fano Filippo Pucci Sono giunti alla fine I lavori di sistemazione Del camminamento dei passeggi Polmone verde della città Diversi interventi Messi in atto dal Comune Al fine di migliorare la qualità E la vivibilità del posto Oggi tra l'altro Versi in condizioni sicuramente Anche più fruibili e decorose Viste che siamo intervenuti Nei due controviali Sia con il rialzamento Di quelle che erano le caditoie Ma anche con il ripristino Di materiali inerte Che è un breccino Molto più sottile Che creerà una fruibilità maggiore E una messa in sicurezza Oltre questo Stiamo ripristinando Ripristineremo giorni Non appena arriveranno i mattoncini Anche la passeggiata Adiacente al chiosco Che i bambini avevano Naturalmente danneggiato Togliendo dei massi Prossimi interventi Riguarderanno i servizi digitali Telecamere e panchine intelligenti Ovvero delle sedute Comprese di pannelli fotovoltaici Capaci di ricaricare telefoni Attivare le reti wifi E illuminarsi durante le ore notturne Un'altra innovazione Che è pronta ad accogliere questo parco È proprio il progetto di Enel Che metterà a disposizione Un'area tecnologica Super accessoriata Con l'installazione di due panchine Che sono dotate di wifi Hanno un impianto di defibrillatori Hanno un impianto di ricarica Per quanto riguarda le biciclette elettriche E anche postazioni per le stesse E sarà un'area che verrà poi Videosorvegliata in quanto tale Inoltre l'assessore Brunori Ha rivolto un invito al Consiglio Dei bambini e delle bambine della città Al fine di valorizzare il parco dei passeggi Ho richiesto loro di fare una progettazione Partecipata Immaginando questo parco Come parco delle meraviglie Per cui a partire da settembre Dalla rifunzionalità Diciamo delle loro attività Lavoreranno proprio sul progettare insieme Al meglio Questo parco A loro misura Rispetto a quella che potrebbe essere Una buona giocabilità E un'immaginazione Una creatività Che è solo loro Ed è stata inaugurata Sabato scorso Nel Convento del Beato Sante A Monbaroccio La nuova sede del Comitato Delle Proloco Della provincia di Pesaro e Urbino Letizia Marchionni Un luogo di pace e spiritualità Come il Convento Francescano Del Beato Sante di Monbaroccio È la posizione scelta Per la nuova sede Del Comitato delle Proloco Della provincia di Pesaro e Urbino Inaugurata lo scorso 26 giugno La sede È un segno di ripartenza Per le Proloco della provincia Dopo il 2020 Anno segnato dal Covid Che aveva spazzato via Tutte le attività E gli eventi organizzati Dopo il taglio del nastro Si è tenuta All'Assemblea Ordinaria Delle Proloco Dove il presidente Damiano Bartocetti Ha illustrato Le attività in cantiere E previste per il futuro Che vanno dalla stipula Di nuove convenzioni Con aziende del territorio Per supportare le Proloco Nella ripartenza Alle collaborazioni Con associazioni ed istituzioni E dalla ripresa Dell'organizzazione Del Natale Che non ti aspetti Sarà un momento Dedicato soprattutto Ai frati Alle nostre Proloco Perché non dimentichiamoci mai Il valore dei volontari E l'essenza delle Proloco Perché senza le Proloco Noi oggi non saremo qui Senza i volontari Senza un corpo fisico Non saremo qui A parlare di Proloco A parlare di territorio A parlare di promozione E parliamo di numeri importanti Perché calcoliamo Che un giro di affari Di circa 5 milioni di euro Nel 2020 Che si sia bloccato Tra risorse dirette e indirette A causa Covid E circa 5 milioni di euro Di introiti Solo per il Natale Quindi parliamo del 2020 Di circa 10 milioni di euro Che non sono diciamo Circolati nel nostro territorio E questo la dice lunga Quindi da qui oggi Chiederemo un appello All'assessore regionale Baldelli Ai consiglieri regionali Un contributo per la ripartenza E soprattutto un aiuto Per il Natale E un aiuto per tutte le Proloco Tantissime sono state le presenze Tra le autorità Politiche e militari A portare i saluti Del presidente delle Marche Acquaroli È stato Francesco Baldelli Assessore regionale Il quale ha ricordato Che in questo momento Stiamo costruendo Le Marche del futuro E lo vogliamo fare Con le Proloco Che costudiscono I valori di comunità E che ogni giorno Aiutano le nostre Amministrazioni comunali A valorizzare Ogni singolo borgo L'inaugurazione È stata condivisa Anche con i frati del convento Ed anche con il ministro Dei frati francescani Minori delle Marche Padre Simone Giampieri Ecco un luogo Che è veramente importante E allora ringraziamo Dio Perché ci sono realtà Volontariati Come anche il Proloco Che valorizza Sull'ambito religioso Culturale E di accoglienza Questo ci tengo molto L'accoglienza A tutto campo Perché questo È un senso cristiano Gesù accoglieva tutti E ogni frate Ecco che vive Ecco con la spirituale Di Francesco Dietro Gesù Deve accogliere tutti Ecco sotto l'ombra Di questo santo Il beato sante Che ci protegge E ci guida Soddisfatto Anche il sindaco Di Monbaroccio Emanuele Petrucci Un piacere Per il mio territorio Il mio comune Avere una sede Così prestigiosa Da poter Presiedere In quanto in un luogo Così importante Come il beato sante Avere quello Che è lo spirito Turistico Territoriale Ma io aggiungo Anche lo spirito sociale Perché le Proloco Oltre al fattore turistico La valorizzazione Dei territori All'impegno Dei loro volontari Riescono a ridurre Quello che è stato il gap Che ha creato Questa terribile pandemia Il Proloco Diventa anche Congiunzione Di quelle che sono Le disparità Allora Prima di salutarci Apriamo l'album Di Fano TV Perché abbiamo Due anniversari Da festeggiare Gli auguri Vanno a Luigi Paolinelli E Olga Bruno Residenti a Fano Che sabato scorso Hanno festeggiato 50 anni Di matrimonio E poi Nozze d'oro Anche per un'altra Coppia di Fano Che festeggia oggi L'anniversario Si tratta di Luciano Miccioli E Federico Ferri Che vediamo in queste fotografie Gli auguri Dai familiari Dagli amici E dalla nostra redazione E ovviamente Gli auguri anche da parte mia Visto che si tratta Dei miei genitori Allora Tra poco La pubblicità Le previsioni del tempo E poi Uno speciale Dedicato All'inaugurazione Del nuovo supermercato Conad Che è stato restaurato Da poco A Lucrezia Di Cartocento L'informazione Torna domani mattina Alle 7 Con Occhio ai giornali E la rassegna stampa Arrivederci Grazie a tutti